I tecnici dell'aslo del servizio igiene pubblica nel cantiere abbandonato di via Fabio Filzi. I funzionari hanno infatti verificato lo stato dei luoghi e scritto al comune di Arezzo perché il privato intervenga. Tutto era partito da un esposto presentato dai residenti ormai esasperati a comune e azienda sanitaria, denunciando una situazione in continuo peggioramento. Qui infatti sarebbe dovuta assorgere la nuova caserma della polizia municipale, ma il leasing incostruendosi era inceppato, portando di fatto al fermo dei lavori ormai da mesi e all'ammaloramento della struttura. I tecnici ASL hanno effettuato un sopralluogo per prendere visione diretta dello stato dei luoghi. Erano stati proprio i cittadini a segnalare in particolar modo le condizioni delle fondamenta della nuova struttura, lavori non portati avanti che di fatto hanno creato vasche piene d'acqua, dove soprattutto con la bella stagione potrebbero proliferare larve e insetti. All'interno si sono create delle piscine di acqua di notevole dimensioni e sono estremamente pericolose anche con l'approssimarsi della stagione estiva, quindi c'è l'allarme dengue direttamente dalla regione toscana. Siamo vicini a delle scuole, siamo vicini a delle situazioni non più sostenibili. I funzionari dopo il sopralluogo hanno scritto al comune di Arezzo perché predisponga il ripristino dei luoghi. Si tratta infatti di una proprietà privata. L'amministrazione attende adesso che una nuova impresa costruttrice subentri a quella messa fuori dall'amministrazione per inadempienza in un sistema di leasing costruendo, come affermato dall'assessore Marco Sacchetti, ai microfoni di Radio Fly. Siamo vicini alla sottoscrizione dell'atto per la sostituzione in corso d'opera dell'impresa esecutrice della caserma e quindi se tutto va bene diciamo che non voglio dare una data precisa ma insomma a breve, non molto a breve, ripartiranno lavori, verrà rimessa in sicurezza il cantiere, c'è stata ovviamente tutta una polemia giusta dei cittadini. L'hai vista quella dell'acqua sì Marco? Hai visto che è il lago? Sì l'ho vista, l'ho vista, c'è stata una nota dell'ASL, abbiamo fatto presente alla proprietà che è intenzione nostra di mettere in ordinanza, siccome la proprietà è il soggetto che poi ci ha proposto la sostituzione in corso d'opera dell'impresa, ha detto che a breve l'impresa interverrà per mettere in sicurezza il cantiere e poco dopo ripartiranno i lavori con previsione di 11 mesi.